Salomon S-Race Prime GS è il nuovo sci da pista ad alte prestazioni e novità Salomon 2022-2023. Performante, agile e preciso, con un raggio di 21 metri e 67 mm al centro, nella lunghezza di 176 cm. Costruzione con nucleo in legno di betulla e pioppo, doppio strato di titan al dispessore prossimo al millimetro e blade technology specifica per lo slalom gigante. I sci hanno un profilo. Full camber! Sci super divertente per andare forte, ricorda un sacco allo sci da gigante di quando facevo le gare. Mi sono divertita un sacco sia nell'arco ampio che in un medio un po' largo e per me che piace fare il corto con sci lunghi è bellissimo. Invece come pecca direi che per fare il medio e deformarlo, fare un medio stretto, ho fatto un po' fatica comunque a chiudere le curve. Col mio fisico ci vuole tanto impegno e non riuscivo tanto. Quindi lo consiglierei a uno sciatore di livello 6 che ami la velocità e a un livello 7 anche, però appunto non per il medio. Uno sci particolare è questo nuovo Salomon, ha un profilo molto molto stretto, un radio di curva di 21 metri per soli 176 centimetri. È uno sci molto ispirato a un gigante junior o comunque per sciatori in crescita e provato in campo libero ti dà all'inizio un po' di sicurezza perché non si è tanto abituati a queste spatole così corte, tendo un po' ad andare dritto ma come giusto che sia per uno sci di alto livello. Quando si fa un attimo il punto sulla situazione si capisce come entrare in curva, poi è una tenuta fantastica perché poi dalla seconda metà di curva fino in chiusura scorre via, stai su due binari, svincola bene, sta bene sotto il piede. Quindi è un attimo da capire quando lo si vuole provare, però poi è uno sci che secondo me merita attenzione. Una nuova proposta da Salomon, devo dire che mi ha sorpreso in positivo nel senso che mi aspettavo uno sci piuttosto difficile, in realtà si è rivelato uno sci divertente e anche non così difficoltoso da inserire in curva. Ovviamente è preferibile negli archi medi e soprattutto negli archi ampi, regge anche ad alte velocità grazie alla struttura abbastanza solida, nell'arco corto invece non è così divertente. Molto preciso, da destinare a una categoria precisa di sciatori, sciatori che vogliono grande stabilità ma che sono in grado di andare ad una certa velocità. Infatti questo attrezzo se non si raggiunge una certa velocità non fa il click, non funziona. Una volta arrivato invece su belle pendenze, magari con neve come quella di oggi, invernale e dura, è uno sci che ti dà sicurezza e ti permette di provare a superare il limite. Si può dire che questo sci è una figata? Mi è piaciuto tantissimo. Faccio una premessa, è uno sci da gigante a tutti gli effetti, anche per il raggio che ha, un raggio 21 nella misura 175. Uno sci veramente portante, stabile, un bel ingresso in curva, una deformazione che ho trovato molto ben distribuita, molto morbida, senza una risposta elastica eccessiva. Quindi uno sci che consiglierei assolutamente ad un pubblico L7, quindi sciatori esperti, che vogliono magari approcciare il gigante o che abbiano già approcciato il gigante ma che abbiano intenzioni di farlo con uno sci un pochino più facile, con un raggio un pochino più corto. Grazie a tutti.